Paura terremoto, scossa avvertita Piacenza. Il sisma ha colpito la Toscana intorno alle 12.30, ma è stato sentito anche in tutto il nord Italia. Nella nostra provincia nessun danno, ma si è diffuso il panico. Centralino dei vigili del fuoco subissato di telefonate. Sesso con una tredicenne, condannato. Un cittadino nordafricano di 28 anni dovrà scontare tre anni e mezzo di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con la sua connazionale minorenne. Dovrà anche sborsare un risarcimento di circa 70.000 euro. Inceneritore chiuso, scontro, provincia freda. L'assessore regionale conferma la possibilità di chiusura dell'impianto di Borgoforte in un'ottica di riduzione della produzione di rifiuti, ma province comune non ci stanno. Mercato cittadino da mettere in sicurezza. Approvata all'unanimità l'emendamento che prevede la sua sistemazione entro fine anno. Ok al nuovo fondo anticrisi. Domani parte il gioco dei baristi. Primo tagliando su libertà per assegnare il titolo di barista dell'anno 2013. Piacenza Calcio, presentati nuovi acquisti. Sono Di Leo e De Vecchis in attesa di Pani. È invece addio per comisso.